Buonasera amanti della cucina e oggi vi presenteremo un re dei fast food, un re che cucina meglio i loro panini. Per cui bisogna stare attenti alla carne, alla condurga del panino e a come fate la grandezza del panino. Attenzione a che livello mettete l'acqua, a che livello mettete l'olio, a che livello mettete la coca cola, il ghiaccio, tutto questo va sviluppato a seconda delle sue volte. E ora vogliamo dire qualcosa, tutto quello che hai detto è giusto, quindi basta procedere. Allora, cosa fai? Io pensavo di fare un panino chiamato Red Bunning, come il mio nome che porto, ma vedo che sei insubbligo. Ricordati le patatine per ultimo, prima il pane, pane grande, pane grande, pane fino, calme, sveglia!